Mi chiamo Andrea Vigliani, sono dal 2013 direttore della fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee a cui fa capo il Museo Madre, un acronimo che significa Museo Arte Contemporanea Donna Regina. Con un gesto un po' performativo che però vi mostra anche la grafica istituzionale del museo, aprendo la cartella stampa del madre, benvenuti a Napoli. Quando abbiamo pensato a questa grafica con lo studio Left Loft di Milano abbiamo pensato ad un colore che fosse identificativo di Napoli, il giallo, e che aprendo i nostri materiali ci fosse la sensazione di essere benvenuti. All'interno di un territorio che è sì geografico e storico, ma è anche soprattutto un territorio narrativo, letterario, musicale, teatrale, cinematografico, culturale, stereotipico, che tutti pensiamo attraverso una serie di esperienze culturali di conoscere già alte e basse queste esperienze. Quindi dire benvenuto a Napoli non vuol dire semplicemente dire benvenuto in un determinato luogo, ma benvenuto in una macchina del senso, dello spazio e del tempo. Ed era importante capire che cosa significasse dire benvenuto a Napoli per me che napoletano non sono. Nasco a Casale Monferrato in provincia di Alessandria, ho lavorato in musei come il Castello di Rivoli a Rivoli Torino, al Mambo di Bologna, alla Fondazione Galleria Civica di Trento e a Documenta, la grande quinquennale d'arte contemporanea che si svolge a Kassel in Germania, anche se a me è toccato di lavorare a Kabul in Afghanistan in quell'occasione. Non avevo mai lavorato a Napoli, ma come tutte e tutte le persone a cui do il benvenuto a Napoli, l'ho dato a me stesso innanzitutto il benvenuto e ho cercato di rendermi conto di che cosa significasse lavorare in questo determinato contesto. La prima cosa che quindi vorrei condividere con voi in questa lezione, che in realtà vorrei essere più corta nella parte in cui parlo e più lunga nella parte in cui ascolto e commento insieme a voi delle cose, è che non esistono o non dovrebbero esistere musei l'uno uguale all'altro. È fondamentale, come non esistono visitatori l'uno uguale all'altro, che i musei affrontino uno dei rischi più inevitabilmente presenti all'interno delle pratiche istituzionali attuali, che è l'omologazione a elementi che non vengono dal, se fossimo degli antichi romani diremmo genius loci, ma siccome siamo contemporanei diciamo dal DNA di un contesto dato. Ma viviamo in una società che è quella del capitalismo cognitivo, che è quella della digitalizzazione, della finanziarizzazione, della globalizzazione, dei movimenti sociali, culturali, economici e politici, che ci mettono di fronte al rischio di essere noi che lavoriamo per esempio nei musei, e quindi i musei, quella nuova forza lavoro sfruttata, mal pagata, poco considerata, che ha sostituito per certi aspetti la cosiddetta classe operaia. Se ne è andata in paradiso e siamo rimasti noi a svolgere spesso questo ruolo. E quindi ai musei si chiede in fondo quello che dovrebbe essere il luogo della critica, dell'elaborazione critica del pensiero, della critica anche nei confronti delle strutture del potere. Si chiede ai musei spesso, molto tacitamente, di essere parte di quella struttura di potere, di essere dei luoghi dell'intrattenimento, con tutti i servizi dedicati a far sì che la cultura sia sostanzialmente non un problema, ma un'occasione di tempo libero. Mi piace ricordare la definizione che gli artisti dell'estetica relazionale diedero al tempo liberato e non al tempo libero, per dire che il tempo libero è qualcosa di prettamente organizzato nella nostra società, bisogna sforzarsi di liberarlo veramente, quindi di liberare il tempo libero. Allora, di fronte a questo rischio, capire innanzitutto il contesto in cui opera il museo significa non accettare nulla per scontato, non pretendere di sapere assolutamente niente rispetto a quello che andrai a fare da oggi in poi. Napoli era una pagina bianca, retrospettivamente potrei dire una pagina gialla, che andava riempita di consapevolezza. Nel caso, quindi, del titolo che ho dato a questo intervento, occorreva per, trattino basso, formare il museo. Il trattino basso, cioè l'underscore, significa soprattutto graficamente radicare il museo, essere su un terreno da testare per trovarne il linguaggio da condividere con gli altri. Il Museo Madre apre nel 2005 in uno dei quartieri centrali di Napoli, il quartiere di San Lorenzo, che sta tra Forcella e la Sanità. È un territorio secolare, ricchissimo di cultura, oggi spesso virante verso la cronaca, verso la cronaca nera, ma tutto intorno a noi c'era, come dire, l'antica città di Napoli. Intorno a noi e sotto di noi, perché Napoli è una città straordinaria, c'è una città invisibile che sta sotto i piedi di chi la percorre. La Napoli sotterranea è ricordare che la cultura Napoli è fatta di livelli, di strati, uno sopra l'altro, e anche noi lo siamo, nella nostra contemporaneità, e avremo un altro strato ben presto sopra di noi. Del resto, accanto a noi c'è Pompei, una città, come dire, che ci insegna che l'esperienza dello spazio e del tempo è un'esperienza malleabile, fluida. Pensate alla sparizione di Pompei nel 79 d.C., e alla sua riapparizione nel 1748. Per circa mille anni Pompei non esisteva più, era diventata una narrazione, era come se fosse piombata in un multiverso parallelo. poi è rientrata nella nostra storia, nel nostro universo. Noi viviamo accanto a questa specie di romanzo di Stephen King tutti i giorni. Viviamo accanto a questo luogo, che forse soltanto Atlantide può essere considerata tale, andandoci pagando persino il biglietto. È vicino a noi, e quindi plasma un'identità paradossale, surreale, in grado, come dire, di avere delle fonti immaginifiche nelle espressioni stesse della cultura napoletana, che sono una lingua totalmente musicale e operistica. Non l'opera, magari, come dire, seria di altre tradizioni, ma magari l'opera buffa, che proprio in Campania, con Cimarosa e Pergolesi, fu inventata. Quindi, se uno pensa, vado a lavorare a Napoli, al Museo Madre, vado a dirigere questo museo, il compito è difficile, molto difficile, già in partenza, perché ti confronti con una ricchezza culturale che, se non vuoi omologare al museo, a quello che avviene in generale nell'industria culturale, devi considerare molto seriamente. E performare, praticandosi, significa correre consapevolmente un altro rischio. Quando io ho detto che volevamo, per, trattino basso, formare una collezione, che è il titolo del progetto in progress sulla costituzione della collezione, ho detto, vorrei fare una collezione, lo dicevo nel concorso, in cui, come dire, mi confrontavo con una giuria, proprio come, come dire, c'erano loro di fronte a me, come voi, e io da questa parte del tavolo. E vidi negli occhi di alcuni colleghi una certa sottovalutazione di questa progettualità. Perché, immagino, pensassero che costruire una collezione a chilometro zero, cioè partendo dal contesto in cui si opera, fosse un po' provinciale. In fondo l'arte contemporanea, il sistema istituzionale, commerciale dell'arte contemporanea, sono fatti sostanzialmente di jet lag. Siamo sempre in viaggio, siamo sempre in giro, siamo sempre connessi. Per cui la collezione non può essere qualcosa che riflette la tua identità culturale, deve essere qualcosa di aperto, di fluido, di mobile. Sì, e quindi spesso le collezioni delle istituzioni sono appunto una uguale all'altra, perché, come dire, c'è una specie di obbligo all'internazionale fieristica, diciamo così, delle collezioni museali. E quindi, vedendo quello sguardo di sottovalutazione, dissi, beh, in fondo se tu vai a Capodimonte o vai al Museo Archeologico Nazionale, non vedi la stessa collezione che vedi al Prado o all'Uvra. Vedi una collezione che parla di una famiglia che si chiamava dei Borboni, vedi una collezione che parla del matrimonio tra una parte di questa famiglia e un'altra famiglia romana che si chiamava Farnese, vedi l'incontro tra le due collezioni e se vai ancora prima vedi, per esempio, in ambito archeologico qualcosa che non esiste negli altri musei archeologici perché non esiste in altri territori, vedi le matres matute, questi straordinari capolavori antichi in cui vengono rappresentate dallo stile arcaico allo stile ormai ellenistico sempre lo stesso soggetto delle donne che partoriscono. In antichità si partoriva sedute e le vedi sviluppare diciamo la vita mentre gli stili cambiano e queste donne da quel che ricordo non erano parte di un tempio con le colonne, i basamenti e l'architrave ma erano nella natura vicino a delle fonti salubri dove le donne partorienti andavano perché il tempio era in realtà il pianeta Terra. Ora, se uno immagina questa cosa dal punto di vista di certe sensibilità contemporanee effettivamente per andare avanti ogni tanto occorre soltanto guardare indietro e quindi penso di aver avuto come dire voglia di rischiare di dire non è una collezione provinciale ma è una collezione che evita al museo di essere un museo come tanti altri e di fare quel servizio diciamo così al capitalismo cognitivo postfordista per cui dobbiamo omologarci invece che differenziarci se abbiamo un'identità e questa è una polemica che conduco ormai da diverso tempo con alcuni colleghi se abbiamo un'identità questa identità va valorizzata non è un minus ma è un plus certo se poi io rimango me stesso e non accetto il confronto perché le identità sono in cammino chiaro diventerò provinciale limitato retrogrado passatista conservatore ma se ho qualche cosa da dare la mia voce il mio corpo la mia abilità nel cucinare lo devo dare perché ce l'ho e così come lo fa l'individuo lo dovrebbe fare la collezione di un museo oggi se venite al madre per vedere questo è il primo quaderno non l'abbiamo rilegato apposta con l'idea che la collezione è ovviamente sempre una costruzione in cammino nel corso del tempo e dello spazio vedrete delle opere come l'alfabetiere murale di Tommaso Bing o la rivoluzione siamo noi di Joseph Beuys 1971 questa immagine è realizzata a casa Orlandi vedrete l'environment di Alan Capro quindi l'arte dell'happening vedrete alcuni degli incunaboli dell'arte concettuale di cui fu pioniere e fondatore Joseph Kossuth come in quest'opera dell'85 vedrete le immagini documentarie i dipinti i filmati del Living Theater vedrete l'opera manuale per viaggiatori di Marinella Senatore giovane artista italiana opera prodotta prima del mio arrivo al madre dal museo vedrete la poesia visiva e concreta di Arrigolo Ratutino vedrete i lavori di un artista americano come Lawrence Wiener vedrete Warhol vedrete l'arte povera vedrete la transavanguardia cioè quello che in generale si vede nei musei è la storia dell'arte ma in questo caso tutte queste opere sono anche la storia dell'arte contemporanea a Napoli in Campania perché provengono dagli archivi delle gallerie provengono dalle case dei collezionisti provengono dagli studi degli artisti provengono da quella tradizione che Napoli e la Campania hanno sviluppato a partire dal 1738 e 48 quando sono state riscoperte Ercolano e Pompei ma anche prima di essere l'epicentro di un fenomeno culturale che deve poter continuare anche se ha un nome così antiquato che si chiama Grand Tour il Grand Tour è anche quello di continuare ad invitare artisti contemporanei a per formare la nostra collezione questo è il senso del trattino basso e poi c'è l'ambiguità della parola per formare che significa per costruire ma anche attivare recitare a soggetto essere pronti diciamo così a che ogni volta che lo spettacolo viene messo in scena sia diverso e in questo senso l'attività del museo è un'attività come dire che si deve porre alcune domande alcuni anni fa nel 2005 ho commissionato per la mia prima mostra che si chiamava No Manifesto in quanto vincitore imprevisto di un premio premio Lorenzo Bonaldi per l'Art Enterprise per curatori Under 35 alla GAMEC di Bergamo invitai a scrivere il testo principale un autore che è un artista ma scrive anche satire scrive testi critici soprattutto scrive pensa intorno all'arte poi la funk è una delle secondo me più belle voci sull'arte contemporanea per esempio quella degli anni 90 ha scritto il più bel testo in Chateau de Touring sull'artista francese Pierre Wigge e si chiama David Robbins e nel testo David Robbins a un certo punto dice addio Marcel quindi dice addio a Marcello e Marcello e Marcel Duchamp dice addio ad un modello su cui tutti i nostri musei di arte contemporanea sono praticamente basati il modello del ready made quello che fa Duchamp ad un certo punto è di prendere come sapete un orinatoio dove facciamo pipì lo porta da dove facciamo pipì nella sala bianca il white cube del museo lo gira lo firma tra l'altro con una firma falsa perché lo firma Matt M-U-T-T e lo trasforma in un'opera d'arte che si intitola The Fontaine La Fontana da l'acqua che ci cade all'acqua che ipoteticamente ci sgorga che cosa era successo? che Marcel Duchamp aveva inventato una specie di rituale laico per cui se tu metti qualsiasi cosa all'interno del museo il pubblico noi saremmo autorizzati a pensare che c'è stata una metamorfosi per cui anche se quella è di fatto ancora una cosa dove si fa pipì se è dentro il museo la posso chiamare Fontaine e diventa un'opera d'arte su questo come dire tutta la storia dei musei contemporanei può dirsi come dire basata ancora recentemente al Guggenheim di New York questa sera inaugura a Roma una mostra dove l'opera credo sia ripresentata Maurizio Cattelan ha fatto un cesso dorato ed è una rivisitazione ironica diciamo così del re di May Duchampiano dove la gente faceva la coda per andare a fare pipì nel gesso di oro solido di Maurizio Cattelan che era collocato non in una sala bianca ma nelle toilette del Guggenheim allora cosa dice David Robbins David Robbins dice che forse è venuto il momento di smetterla per i musei di essere un oggetto di santificazione degli oggetti e della provocazione che il museo ha quale tempio moderno e modernista della trasmutazione del piscio in oro diciamo così e di diventare fondamentalmente il soggetto che ha il coraggio e ha l'autorità di fare il contrario se io santifico le cose e le faccio diventare opera d'arte quando le metto dentro perché invece di portare il mondo dentro il museo non vado come museo verso il mondo perché non vado là dove ci sono i desideri le paure le ignoranze le visioni le contraddizioni delle persone perché non spingo il museo a studiare che cosa desiderano le persone perché penso che una mostra d'arte debba essere più interessante di una puntata di una sitcom televisiva di una soap opera o di un serial che forse invece viene visto da milioni di persone Game of Thrones per esempio perché lì ci sta molta più cultura o molta più cultura percepita rispetto a quello che il museo tempio moderno e modernista della santificazione dell'orinatoio di Duchamp trasformato in opera d'arte in quanto ready made possa dare ancora le persone e allora è successo che gli artisti per esempio quelli dell'estetica relazionale negli anni 90 che è un po' la generazione in cui si afferma anche David Robbins abbiano iniziato a studiare i meccanismi per cui le persone guardano i film e come magari i film costruiscono un immaginario come dire limitato da industria culturale per portarti ad avere delle reazioni collettive non variabili e soggettive quindi hanno studiato come dire i meccanismi diabolici dell'intrattenimento culturale ed è forse molto meglio andare a studiare quella cosa che non portare degli oggetti e santificarli nel museo vedere come la cultura fuori possa essere rivelata dall'intelligenza del museo nei suoi meccanismi induttivi nella sua mancanza di libertà venire verso di noi come pubblico che andiamo al cinema guardiamo la televisione con l'intelligenza della cultura alta lui ha coniato questo termine high entertainment intrattenimento alto cioè andare laddove la gente vuole divertirsi con i contenuti ma rivelando gli meccanismi disfunzionali di quei contenuti in questo senso c'è una via di fuga dal capitalismo cognitivo postfordista dalla globalizzazione finanziaria del come dire meccanismo arte in cui siamo costretti ad operare anche noi come musei che abbiamo comunicati stampa da fare sale da riempire collezioni da costruire consigli di amministrazione da tranquillizzare referenti politici ancor più da tranquillizzare eccetera eccetera allora per me per formare il museo significa poi soprattutto questo come professionista agire in modo tale che si fidino di me per fare le cose che non dovrei fare agire in modo tale per cui posso prendere uno stipendio per tentare di far sì che dei movimenti diciamo sofficiamente anarchici come sono sempre quelli degli artisti possano trovare un loro spazio tempo di protezione se ci pensate non è diverso da quello che i grandi mecenati hanno fatto quando hanno permesso non so a Caravaggio di dipingere dei piedi sporchi in un'opera che poi andava in una chiesa non è tanto diverso da chi ha avuto il coraggio di affiancare un Adamo ed Eva come quello di Masaccio violentemente reali accanto agli elzeviri tardogotici di un artista straordinario come Masolino ma come dire dare il senso di una rivoluzione che oggi è estetica quanto etica perché è sistematica c'è un entanglement fondamentalmente tra tutte le cose ormai l'arte da quando non deve più dipingere madonna e col bambino che anche erano rivoluzionarie sicuramente diventa anche e sempre ogni giorno un discorso su chi siamo come stiamo salvando distruggendo il nostro pianeta se c'è o non c'è una connessione etica con il contesto in cui lavoriamo se l'intelligenza artificiale sta trasformando il nostro modo di vivere e di pensare eccetera eccetera cioè l'arte è diventata un'interrogazione assolutamente olistica sulle cose e quindi siccome lo è ha anche dei caratteri di scomodità diciamo così questa scomodità va tenuta cara non necessariamente la puoi mettere nella scheda dei fondi europei che compilo a inizio anno però è fondamentalmente la ragione per cui quella cultura all'interno del museo viene ancora ad essere tale da poter definire quello il tempio delle muse non il tempio dell'accountability non il tempio dell'aumento del numero dei visitatori non il tempio delle campagne di marketing non il tempio del press release del press package della rassegna stampa così alta no ma il tempio delle muse ancora il tempio delle muse e in questo senso io qui ho preparato delle immagini però come dire non so quante ve ne potrò far vedere sono felice che questa esperienza mi sia arrivata al madre dopo aver partecipato nel 2010 2012 a questa avventura che si chiamava documenta 13 documenta come forse voi sapete è questa specie di olimpiade dell'arte contemporanea che avviene ogni cinque anni nella cittadina tedesca di Kassel rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale dai bombardamenti alleati ed è proprio in quella città che una persona Arnold Böde ha l'idea di ricostruire non tanto le case quanto le coscienze e quindi di partire dalla cultura da partire con una mostra che facesse in modo tale che quella comunità ritornasse a dialogare non solo con il resto del mondo ma anche con la cultura non come distruzione dell'arte degenerata ma come accoglienza di quelle provocazioni di quella scomodità dell'arte quando è come dire ispirata dalle muse Arnold Böde a suo modo era credo ispirato dalle muse documenta diventa a differenza per esempio della Biennale di Venezia che nasce dalle costole di una fiera diventa un luogo dove ci si come dire scontra e incontra e non è a caso la storia di documenta è stata una storia molto importante vi faccio un esempio prima di quella a cui ho partecipato quella curata e lo saluto dovunque gli sia da Oqui Hemvezor è stata la documenta che ci ha fatto capire che c'erano tante storie dell'arte quante culture ci sono in questo nostro piccolo pianeta per cui c'erano state rivoluzioni culturali in Africa in Oceania e non soltanto a Parigi Londra Berlino e New York e questo questa storia del secolo breve short century che peraltro fu anche l'analisi di una bellissima mostra che ho qui di Hemvezor fece qualche anno prima è sicuramente uno dei meriti documenta è divulgare ciò che magari nell'ambito delle ricerche artistiche curatoriali è ormai dato di fatto e portarlo come dire alla santificazione duchampiana del museo a volte come dire ci serve anche contraddirci alcune volte serve questo rito di santificare le cose quando le portiamo in questo caso in documento nel 2010 sono stato invitato a far parte di questo progetto ma non sono andato a Kassel in Germania sono andato a Kabul in Afghanistan avendo studiato l'arte povera avendo studiato Alighiero Boetti la direttrice artistica di documenta Caroline Christophe Bakarjev mi tende una trappola once in a life invitation se lo rifiuti non ti capita più mi invita a far parte del core group degli agents di documenta non abbiamo usato la parola curatori ma agenti e mi manda dato che non si può rifiutare l'invito di collaborare con documenta non ti capita più mi manda in Afghanistan e l'idea era sostanzialmente quella di andare in Afghanistan sì per riaprire il one hotel di Alighiero Boetti voi sapete nel 1971 non ricordo la data esatta in questo momento comunque Alighiero Boetti va in Afghanistan e apre una guest house che si chiama One Hotel lui che era italiano apre uno spazio di ospitalità in Afghanistan e con l'invasione sovietica e poi la guerra civile dei Mujahideen prima ancora del stabilizzarsi del regime talebano prima ancora dell'arrivo delle forze di liberazione dell'ISAF Alighiero Boetti non tornerà mai più dal 78 al One Hotel che però grazie alla geolocalizzazione di Google Map all'interesse di Tom Francis e di un artista messicano Mario García Torres ci si stava interrogando che forse non era stato distrutto non c'era andato nessuno dal 78 in loco sul campo on field e allora noi mentre tutti cercavano Osama Bin Laden noi c'eravamo appassionati alla ricerca del One Hotel di Alighiero Boetti questa è un po' la differenza tra chi fa magari politica e chi fa arte e l'abbiamo trovato e quindi la nostra passione era quello di riaprirlo di andare laddove un cittadino italiano era andato aprendo una guest house cioè facendosi sostanzialmente ospite di persone afghane trasformando se stesso come ci avrebbe poi spiegato l'artista messicano Mario García Torres da guest a host da persona che viene ospitata persona che ospita e non era la stessa cosa che stanno facendo ancora le truppe che prevalentemente fatte da nostri soldati e questo è eroico ma anche da military contractors vanno in Afghanistan non non si mettono ad aprire delle guest house ho un po' l'impressione che Alighiero Boetti avesse preconizzato invece un modo di restare all'interno di una contraddizione multiculturale dove occorre innanzitutto capire prima di imporre o di proporre nel 2010 con Mario García Torres e alcune persone siamo andati a Kabul e abbiamo finalmente riaperto il One Hotel eravamo i primi occidentali dal 1978 ad entrare in quel luogo che forse potremmo ribattezzare Half Hotel cioè mezzo hotel dato che metà è stato distrutto e abbiamo fatto per circa un anno e mezzo un'operazione che è stata forse tra le meno comunicate di questa quinquennale d'arte contemporanea che è stata quella di prenderci cura di questo spazio di riaprirlo e di ritrasformarlo in uno spazio di ospitalità abbiamo tolto le grate alle finestre che erano state mezze durante la guerra civile abbiamo tolto il cemento dal giardino e ripiantato i semi di alberi di melograno abbiamo riportato i tappeti e i cuscini ma soprattutto abbiamo fatto un gesto vedete abbiamo proprio fatto il lavoro di pulizia che si deve fare quindi abbiamo pulito rassettato riarredato riospitato abbiamo rifatto musica tra l'altro c'è questo bellissimo doppio chitarrino perché Alighiero Boetti parlava dell'emisfero destro e sinistro del nostro corpo quindi si suonava con due mani questo strumento dietro c'è il camouflage militare di una sua opera originale di Boetti che abbiamo richiesto ma in realtà questa è la strada del One Hotel come è oggi in realtà tutto parte un po' la storia che vi voglio raccontare dalla nostra visita nei musei di Kabul per approdare poi a questa immagine allora partiamo prima da questa siamo andati con Mario Garzia Torres anche con altri artisti Francis Alice Gosha Makuga Lara Favaretto ma soprattutto con Mario siamo andati con i nostri amici afghani con i nostri amici artisti poi il discorso sarebbe lungo comunque siamo andati nei musei di Kabul quando tu vai al Museo Archeologico Nazionale dell'Afghanistan vedi una teoria di sale semivuote poi a un certo punto si vedi qualche scultura qua e là e a un certo punto entri in questi laboratori dove vedi al lavoro degli archeologi che stanno sostanzialmente restaurando e pulendo dei frammenti rotti perché ovviamente ci raccontano ad un certo punto entra dopo tutti i danneggiamenti i depredamenti e le violenze che subiscono i corpi e subiscono anche i corpi istituzionali qui recuperi un po' l'affezione per il valore sacrale del museo quando vai in questi musei dopo tutto ciò sono entrati alcuni personaggi e hanno iniziato a prendere a randellate le opere del museo era arrivato il regime talebano quindi quel museo che cosa ha da custodire oggi? il museo che custodiva l'oro della Bactria di Alessandro Magno ha da custodire la resistenza la forza il desiderio di avercelo un museo a partire anche soltanto dai frammenti rotti che ti hanno lasciato per terra faccio notare che i talebani non hanno distrutto propriamente l'oro della Bactria perché c'è stata una persona che lavorava alla banca nazionale afghana che se l'è andato a prendere un giorno non per rubarlo ma per scavare delle mattonelle sotto la sua sedia in ufficio metterci l'oro della Bactria rimettere le mattonelle lavorare dieci anni al suo posto di lavoro con l'oro della Bactria sotto il sedere che oggi esiste grazie a questa unica persona lo vorrei considerare il primo visitatore ideale il primo museo vivente un po' come in Fahrenheit 451 in cui imparano i libri a memoria prima di bruciarli delle persone che ho incontrato in Afghanistan poi vai e questa è la storia che in realtà Mario racconta accettando lui dice paradossalmente con 40 anni di ritardo l'invito di Alighiero Boetti ad essere uno degli ospiti del One Hotel non trova più lo spazio-tempo della Kabul di Boetti ma trova come dire lo spazio-tempo della Kabul di Mario Garzia Torres e lì il dialogo tra i due artisti inizia perché Mario Garzia Torres lavora in dialogo sempre con con gli altri soprattutto gli altri artisti poi siamo andati alla National Gallery of Afghanistan di Kabul e abbiamo visto pochi dipinti e una vetrina con molti dipinti tagliati lacerti di dipinti e ci hanno spiegato che anche lì è arrivata forse la stessa commissione culturale talebana e ha tagliato ovviamente i dipinti se ne sono salvati alcuni quelli che si sono salvati sono stati salvati anche in parte da un altro visitatore ideale se ben mi ricordo è un dentista e lo abbiamo invitato a far parte poi di Documenta un suo potremmo definire un artista della Domenica dice così un suo dipinto stava accanto ad alcuni dei capolavori più preziosi della storia della cultura nella rotonda del Fridericiano di Cassel questa persona di cui adesso vi rileggo il nome fece una cosa abbastanza sintomatica andò per pulire i dipinti prima di questa visita e in realtà nella spugna con l'acqua c'era della tempera per cui in realtà li coprì e quindi fece in modo che durante quella visita successiva non si ritrovassero degli elementi per quel tipo di approccio culturale problematici per cui non furono tagliati quando cambiò il regime politico andò con la stessa spugnetta chiedendo il permesso non c'era più la tempere e quindi lavò il suo intervento i dipinti che si sono conservati sono conservati anche grazie tra gli altri all'intervento di questo altro visitatore ideale ultimo episodio c'è un po' di realtà e un po' di fiction perché sono passati diversi anni ma soprattutto è passato tutto attraverso il filtro degli artisti con cui queste storie sono state condivise altra visita l'ultima ve lo prometto alla Afghan Film la cinecittà di Kabul quando siamo arrivati e vi vorrei mostrare anche quella mostra che è stata una mostra poi successiva a quella di Mario García Torres che ho fatto al madre la mostra di Francis Alis quando siamo entrati insieme a Mario e in questo caso soprattutto a Francis abbiamo visto un'altra vetrina con delle materie carbonizzate andando un po' vicino abbiamo riconosciuto delle pellicole di film bruciate stessa storia ve la faccio breve sono arrivati forse la stessa commissione culturale e ha bruciato tutti i film anche in questo caso c'era stato qualcuno una persona se ben mi ricordo educata dai sovietici a Almahata che era la cinecittà sovietica lì sopra l'Afghanistan in Tajikistan Turmenistan Uzbekistan non mi ricordo comunque Almahata Kazakistan in Kazakistan e questa persona fa una cosa molto semplice come le altre due porta tutto quello che vi sto per dire in questo piccolo stanzino toglie la manopola della porta rompe la luce elettrica e ci mette di fronte qualcosa ora non ricordo se manifesti politici intanto c'erano solo parole e non immagini ma le parole sono pericolose come le immagini è di fronte e praticamente passa questa commissione occulta ma non vede questo stanzino quindi non distrugge quello che c'è dentro quello che c'è dentro erano i negativi per cui i talebani hanno bruciato le copie positive che sono rimpiazzabili ma non gli originali negativi che credo in questo momento siano stati restaurati o siano in corso di restauro mi spiace non avere più certezza di questo dalla fondazione di Martin Scorsese perché ovviamente in Afghanistan non hanno macchine per digitalizzare gliele avranno anche donati i governi internazionali che li vogliono aiutare ma chi soprattutto si è aiutato è questa persona quindi in tre musei abbiamo avuto tre visitatori che non è che hanno salvato il patrimonio ma hanno rischiato la vita perché in quegli oggetti con la sacralità che come dire Duchamp conferisce all'orinatoio evidentemente era rimasta l'idea di una collettività di una comunità quella sacralità che ho criticato prima è comunque un valore aggiunto di quello che un museo può fare se usa in ogni modo la sua intelligenza performativa può veramente trasformare non c'è Rossellini all'Afghan Film ma può trasformare quella pellicola in qualcosa per cui io posso voler decidere di rischiare la mia vita allora quando come dire sono arrivato a Napoli io avevo avuto questa esperienza che mi ha molto segnato e che trovo come dire sintomatica in rivelatori e sintomatica in questa immagine finale di questo film Tea che è stato realizzato durante documenti che era il centro della nostra mostra la prima che raccoglieva tutta l'esperienza afghana di Mario Garcia Torres al madre con cui inauguro il mio programma te è quello che un cittadino afgano una persona in Afghanistan ti offre quando entri in casa ti togli le scarpe e lui ti offre un te come per noi stringerci la mano offrirci un caffè insomma il te è la forma di benvenuto il video si chiama te allora cosa succede credo di ricordare all'inizio del film c'è questa radiolina che noi abbiamo comprato per la cucina del One Hotel ed è credo questa l'immagine e questa radiolina ad un certo punto inizia a dire il tempo atmosferico in tutte le province afghane Kandahar Todgradi Mazar al-Sharif Todgradi Erat Todgradi Kabul Todgradi alla fine del film noi abbandoniamo il One Hotel è finita documenta sono finiti soldi per affittare il One Hotel se posso fare un invito al governo italiano di riaffittare il One Hotel e di farci l'istituto italiano di cultura a Kabul che non c'è e quindi con molta malinconia abbandoniamo questo progetto che è di fatto il progetto più effimero di questa grande mostra ce ne torniamo a casa nostra io me ne torno a Milano non lavoravo ancora al madre e Mario torna dalla sua famiglia a Città del Messico si porta via alcune cose da questa esperienza tra cui questa radiolina l'ultima immagine di questo film diario diciamo così di incontro tra Alighiero Boetti e Mario Garzia Torres in uno spazio tempo diverso Pompeiano 40 anni di distanza hanno cambiato tutto ma non hanno forse cambiato alcune cose sono quelle che ci permettono di trasformare l'opera d'arte la mostra il museo in una macchina del tempo e del senso e che questa radiolina messa nella cucina di Mario Garzia Torres alla fine del film riattivata ad un certo punto inizia a dire il tempo atmosferico di tutte le province in Messico Guadalajara Acapulco Capo San Lucas cioè fa la stessa cosa che stava facendo a Kabul in una lingua diversa un po' questa è la mappa ricordate le mappe di Boetti con la forma del mondo e tutte le bandiere della storia umana che lo parcellizzano ma la forma del mondo rimane uguale di Mario Garzia Torres fa come dire un'opera pienamente boettiana in modi completamente diversi così come la sua venuta a Kabul è in fondo in un contesto completamente diverso ma con una spinta diciamo così a trasformarsi da guest in host molto simile e allora sono felice di far parte di quel gruppo di persone che cercano il One Hotel invece che Osama Bin Laden non perché una cosa sia meglio dell'altra ma perché lo strumento che in questa nostra professione di spie contro spie diciamo così dobbiamo fare quello di dare alternative di senso alla barbarie che è anche quella del capitalismo cognitivo finanziarizzato globalizzato di una digitalizzazione per cui spesso ci si dimentica che si può fare anche arte con quasi nulla con nulla non si può fare arte ma con quasi nulla si può fare arte con i corpi con la terra con la memoria con una radiolina allora nella performatività del madre come dire questo spirito etico non è scindibile da quello estetico ed è forse questo che anche ho ritrovato in una città come Napoli una città dove si è fatto spesso cultura con quasi niente e allora per andare un po' avanti ma non indietro ora io questa sarà una carrellata di cose che non spiego ma almeno le abbiamo viste eh beh questo ne ho parlato prima questo è Francis Alice la mostra che abbiamo presentato aveva al centro questa grande proiezione che si intitola Real Unreal quindi come dire arrotolare e srotolare e sono questi due bambini che fanno un gioco che i bambini fanno sempre quella di quando non hanno niente di prendere una ruota ce ne sono tantissime nelle strade afghane un bastoncino e come dire farlo andare avanti finché non casca Francis Alice gli ha dato una pellicola di film in cui uno la srotolava e l'altro dietro la rotolava e hanno girato un po' come nei film città delle avanguardie storiche su Berlino New York hanno girato tutta la città trasformando la polvere di Kabul che si è impressa sulla pellicola nell'unico film che potevano questi due bambini girare come se la pellicola si impregnasse diciamo di quel materiale ma anche come se la città fosse un proiettore poi alla fine incontrano un fuoco e la pellicola si brucia quindi si spezza e compare questa scritta ricordando quello che era accaduto alla afghan film compare questa scritta che dice cinema everything else is fiction cinema tutto il resto è finzione perché come dire in questa opera che racconta una storia per metafora è l'arte come dire la vita che vogliamo vivere con i suoi valori con la sua pienezza di desiderio ci invita David Robbins ad abbracciare la storia dei desideri ancora più della storia dell'arte questa arte è verità tutto il resto anche gli infingimenti della politica le violenze della guerra è finzione e non indietro però andrei ok questa è una mostra che io ho amato moltissimo e non ho il tempo di spiegarvela ma almeno è una mostra di un altro artista con cui volevo collaborare soprattutto in questo momento si chiama Walid Rad è un artista libanese e Walid sta studiando in relazione al museo tra le tante altre cose che sta facendo questa era la parte della mostra dedicata a questa sua riflessione quanto stia nascendo una fiction culturale in un determinato luogo del mondo intorno al Golfo Persico non dalla parte dell'Iran ma dalla parte degli Emirati che stanno costruendo musei nel deserto con delle grandi corporation istituzionali il Louvre il Guggenheim eccetera eccetera e come per certi aspetti questi musei che stanno diventando delle attrazioni turistiche e che stanno sostituendo nell'economia di quei paesi la calante ricchezza derivante dal petrolio si è studiato che il petrolio finirà ma loro saranno pronti perché quando saranno finito loro saranno già una matura infrastruttura culturale e turistica però Validrad sta studiando come questo stia creando in realtà una fiction dal punto di vista del trasformare un'opera in opera d'arte una tazza e qui siamo di nuovo al paradigma di Ushampiano una sella di un dromedario non sia esattamente raccontare la storia per com'è ma per come è per certi aspetti e involontariamente rispetto agli oggetti qualcuno vuole che sia e allora lui sta studiando come le ombre portate nelle vetrine di un museo lo stile della didascalia tutto il setup siano una straordinaria costruzione teatrale sia un rendere falsa la storia e che lo facciano i musei laddove dovresti andare a imparare la differenza tra realtà e finzione è un elemento molto interessante per certi aspetti Validrad è uno di quegli artisti che ci invita a non fidarci dei musei del resto io mi sono definito una spia una controspia per cui come dire il gioco può continuare anche in questo senso non indietro Andri ok questo è un saggio di quel tipo di operazione legato alla collezione di cui vi parlavo anche se in questo caso è all'interno di una mostra che abbiamo dedicato non a caso ad uno dei grandi protagonisti di quella storia dell'arte a chilometro zero che si svolge a Napoli un gallerista ma anche un pioniere di tante intuizioni del resto la professione di gallerista per come la conosciamo oggi si definisce quando apre Lucio A Meglio la sua galleria nel 65 nello stesso momento in cui si definisce la professione che faccio io quella del curatore e Lucio A Meglio insieme ovviamente a tanti compagni di strada porta a Napoli Cunelli se l'arte povera Joseph Boyce Andy Warhol di nuovo Andy Warhol mi fermerò un attimo poi c'è la pop art ma questa è la mossa di Stuart altra cosa che sarebbe bellissimo a raccontare allora uno dei meriti più grandi direi afghani per certi aspetti di Lucio A Meglio su cui avrei voluto lavorare ho avuto l'occasione e il privilegio di farlo è la collezione Terremotus 23 novembre del 1980 trema la terra in Irpinia e questo terremoto genera molte vittime e tra le persone molte vittime tra le opere d'arte l'idea che Lucio A Meglio ha secondo me influenzato moltissimo dalla sua amicizia con artisti come Joseph Beuys che nel 1971 gli aveva fatto dire per una mostra alla Modern Art Agency la rivoluzione siamo noi non aspettiamo che la facciano gli altri siamo noi recupera i passi e gli sguardi del quarto stato di Pellizza da Volpedo guarda negli occhi chi lo guarda non fa un'opera fa un multiplo non è un feticcio che costa quello che si può permettere solo l'elite ma è un manifesto uno slogan e dice la rivoluzione siamo noi ogni donna ogni uomo è un artista non hai nulla da scolpire non hai nulla da dipingere caspita voti hai la più bella opera d'arte tra le tue mani che è la società cerca di usarla questa tua creatività la rivoluzione siamo noi ok e Andy Warhol e Joseph Beuys e 80 circa artisti reagiscono all'invito di Lucio A Meglio di fare qualche cosa di analogo a quello che io avevo visto accaduto in Afghanistan è bello perché magari capisci una cosa che è accaduta prima dopo che ne hai viste altrove molto più recente e dice donate delle opere formiamo una collezione ideale che metaforicamente sostituisca il patrimonio distrutto non solo perché è importante per la storia dell'arte ma soprattutto perché le opere d'arte sono uno degli strumenti per cui una comunità si sente tale nel caso di quest'opera uffa che si intitola terremoto in palazzo di Joseph Beuys l'artista tedesco quello della rivoluzione siamo noi dice possono cascare le case ma quello che non deve cascare è ciò che c'è nel cuore e nella testa delle persone quindi questa metafora di questo edificio che casca è caschi l'edificio ma non deve cascare la società perché i palazzi più importanti sono nel cuore e nella mente delle persone terremoto in palazzo e Andy Warhol fa una cosa analoga con la copertina del 26 novembre del 1980 del mattino il principale giornale della città che tra l'altro Lucio Amelio organizzava e utilizzava come una specie di non organizzato ufficio stampa delle attività della galleria c'è questa famosa headline questo famoso titolo fate presto lui lo prende e fa come faceva lui fa delle serigrafie su tela facendo una specie di terremoto grafico perché se c'è la prima che è bianco e nero la seconda è bianco su bianco e la terza è nero su nero cioè fate presto altrimenti non leggerete più questa notizia non vi renderete conto più dell'urgenza l'idea di Terremotus rimane quella di una collezione straordinaria forse una delle poche tematiche etiche ed estetiche che siano state concepite e Lucio Amelio desiderava creare una fondazione per questa collezione peraltro una collezione che non si doveva interrompere mai perché lui diceva il terremoto è ogni giorno non fisicamente ma la società rischia di crollarci come dire per terra ogni giorno se non la curiamo muore nel 94 undici anni dopo nel 2005 apre il madre abbiamo dedicato questa mostra a Lucio Amelio non soltanto per spiegare il senso della nostra performatività sulla collezione ma anche per dedicare questa collezione a chi non ha avuto il tempo di vederla ma aveva gettato le basi diciamo così di un discorso pubblico affinché questa collezione esistesse non è la stessa di Lucio Amelio ma è come la radio di Boetti e Mario Garzia Torres ci sono delle cose che si trasmettono cambiano ma poi si realizzano anche se in modi diversi uffa ok Sturtevant è un'artista americana voi vedete Warhol Frank Stella Klaas Holdenburg in realtà vedete anche questo e lei in realtà Sturtevant è l'artista di tutte quelle opere non le chiamate copie in una città come Napoli dove molti degli artisti che Sturtevant ha come dire ricreato li ha avuti nelle sue gallerie nelle sue collezioni nei suoi musei il fascino per me straordinario è stata una delle grandi maestre provocatorie e sono felice di averla incontrata negli ultimi anni della sua vita purtroppo non è venuta all'inaugurazione al madre perché avendo noi rimandato due volte la mostra nel frattempo è scomparsa però Stefanie Mouadon la curatrice e Lorraine la figlia di Helen Sturtevant hanno realizzato dalle note di lavoro la mostra finale che si intitolava Sturtevant 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 non ha mai fatto copie questi sono come dire ecco è lei che fa la rivoluzione siamo noi di Joseph Beuys quella che abbiamo in collezione al piano di sotto ma non è una copia quello che Sturtevant ha sempre ricercato nella sua pratica artistica teorica ancora prima che artistica è il titolo della sua enorme mostra all MMK di Francoforte qualche anno prima della morte The Brutal Truth la verità nuda e cruda brutale dell'arte perché tutti amiamo Van Gogh perché tutti vogliamo andare a vedere la Gioconda perché Pop Art Warhol sì che cosa rende un'opera d'arte un capolavoro collettivo che cosa sfonda la barriera della disattenzione dell'incultura e diventa un'icona qual è la verità nuda e cruda dell'arte per farlo Sturtevant ha letto ha frequentato gli artisti li ha conosciuti è andata a guardare mentre lavoravano e ha ricreato quelle opere per cercare di fare a mano ciò che forse non ha risposta e la sua mostra dell'M&K di Francoforte che io vidi decisi di invitarla prima o poi l'ho potuto fare a Napoli le condizioni sono state per certi aspetti ottimali aveva tolto tutti gli originali dal museo e aveva rimesso tutti i nuovi originali nel museo erano tutte investigazioni come i nostri saggi critici per spiegare qual è la verità di una grande opera d'arte se l'avesse spiegato probabilmente oggi ci sarebbe un computer in grado di farlo ma per fortuna la sua è stata una provocazione lunga una vita e quindi non abbiamo il computer che fa capolavori di successo collettivo per fortuna Mimmo Iodice su Mimmo Iodice mi fermerò un attimo allora in questo momento il madre è arrivato a tre mostre dedicate a grandi fotografi e Dio solo sa quanto questi artisti che utilizzano la fotografia sono stati costretti all'umiliazione di essere chiamati fotografi e magari di essere chiamati a fotografare le mostre di altri artisti c'è una mostra importante dal punto di vista anche metaforico a Torino negli anni 70 si chiama Combattimento per un'immagine ed è una mostra sulle relazioni tra pittura e fotografia allora oggi questa battaglia è vinta gli artisti che utilizzano la fotografia possono stare sui muri bianchi dei musei e non solo sulle riviste di carta dei giornali ma è anche vero che è necessario un tipo di operazione culturale che spieghi come questa battaglia è stata vinta allora non è per vezzo non è per portare qualche visitatore in più o avere qualche articolo in più che nelle mostre di Boris Mikhailov Mimmo Iodice e la mostra attualmente in corso di Robert Mapplethorpe mettiamo le opere d'arte antica che è una trappola spesso utilizzata per fare quello che appunto non volevamo fare se lo facciamo è perché è attraverso questo confronto per esempio il confronto tra un capolavoro di Ribera qui si vede malissimo che è la natura morta con testa di Caprone e un altro capolavoro che è una delle nature morte di Giorgio Morandi si può capire l'oscillazione tra come dire violenza barocca e diciamo epifania catarsi dell'oggetto della serie Eden di Mimmo Iodice che è nato da una relazione come dire con la grande storia dell'arte e non è nato soltanto dal sapere quando scattare una fotografia quindi state attenti come dire prenegarde alle mostre di confronto tra l'arte contemporanea e l'arte antica però non solo in senso negativo nel non fidarvi anche nel cercare di capire se questo strumento è stato utilizzato per far vedere meglio e capire più profondamente il senso di un lavoro e il passo in avanti che quel lavoro ha determinato nella storia della cultura che Camille o Fabio Mauri ce l'avete anche in collezione in questo magnifico manifesto nella sala con il grande con la grande parete quadreria di opere nel forum del macro non credo che di Mauri si possa parlare senza fare un'intera conferenza ma se c'è una cosa come dire che ci porta per formare dal vivo una mostra di arti visive è sicuramente stata la mostra di Fabio Mauri che abbiamo curato con Laura Cherubini abbiamo intitolato retrospettiva luce solida la luce la luce del cinema la luce del tubo catodico che ci trasmette l'immaginario non ha come dire visione la sua essenza ma è più solida di una roccia se noi guardiamo la televisione o andiamo al cinema o sul nostro ipad ci convinciamo di stare due ore attaccati a quella fiction o guardiamo grazie a questo strumento cosa sta accadendo intorno a noi il pensiero diceva Mauri ha un peso il pensiero ha un peso pensate che in una sua proiezione suo oggetto una proiezione filmica di un film su una su una bilancia Mauri aveva credo preso quella bilancia un po' rotta perché sebbene sulla bilancia non ci fosse appoggiato nulla la lancetta era leggermente virata verso il grammo il la bellezza il pensiero le forme i colori dell'arte le idee hanno un peso caspita per un'idea hanno mandato milioni di persone a morire nei campi di concentramento le idee hanno un peso e come se ce l'hanno e quindi questa mostra andava performata del resto molte delle performance che Fabio Mauri inizia a fare alla fine degli anni sessanta le inizia a fare riferendosi per esempio al regime nazifascista con una come dire capacità di articolare il senso di colpa e della rimozione delle persone perché ti metteva nella stessa condizione non so nel 1970 di stare di fronte ad un tribunale che condannava una persona solo perché era ebrea lo faceva nel 1970 lo faceva tale quale studiando i documenti d'archivio ma non c'era più tuo nonno ad essere il testimone passivo di questa cosa c'eri tu queste sono state anche le geniali azioni performative di Fabio Mauri che sono state rimesse in scena al museo madre voi ricorderete peraltro la meravigliosa azione intellettuale 1975 in cui Fabio Mauri chiede al regista di un film di togliersi la camicia gli proietta il film sul petto la performance si chiama l'intellettuale quindi diciamo anche la responsabilità del regista di essere schermo del suo stesso film il regista è Pierpaolo Pasolini e il film è il Vangelo secondo Matteo qui è il retro del madre Gian Maria Tosatti Wei Guyton Stephen Prina mostra bellissima English for Foreigners ma è molto lungo spiegarla ma è la storia di un padre di un figlio dall'Italia fascista all'America del consumismo Roberto Cuoghi la retrospettiva dedicata a Mario Martone e Pompei ad madre su questo vorrei terminare questo è il diario bellissimo questo è un diario della fine del Settecento che dice tutte le scoperte meravigliose che sono state fatte a Pompei questo è uno dei diari della distruzione che dice quante cose sono state distrutte a Pompei cent'anni dopo dalle bombe della seconda guerra mondiale Pompei come dire è lo vi lo dicevo prima un come dire un straordinario luogo di sperimentazione sul tempo sullo spazio sulla trasformazione delle materie delle icone è assolutamente più contemporanea come dire di tante altre situazioni contemporanee ed è molto bello che Curzio Malaparte nella pelle abbia definito Napoli l'unica città del mondo antico non seppellita come se fosse una Pompei contemporanea allora Pompei ad madre per me non è stata solo una mostra ma è stato anche un modo sostanzialmente per ribadire che cosa intendo con museo performativo questa è un'immagine da cui tutto il progetto è nato in realtà è nata anche da un'altra immagine che non ho ma che vi racconto è nata nei depositi di Pompei allora Pompei fino al 1860 scoperta nel 1748 fino al 1860 ogni cosa che si scopriva se non si riusciva proprio a arrancarla via da terra e se aveva un valore poi il criterio di valore cambia per cui forse come dire molte cose sono state anche tralasciate per questo finiva al Real Museo Borbonico l'attuale edificio del Museo Archeologico Nazionale che comprendeva tutte le collezioni della famiglia reale anche quelle che dal 1957 sono al Museo Real Bosco di Capodimonte quindi anche i dipinti successivi non archeologici il Real Museo Borbonico era un enorme scrigno di tesori e Pompei che veniva riscoperta anche senza criteri scientifici veniva tra virgolette depredata dei suoi tesori perché finissero in questa enorme wunderkammer di meraviglie appartenenti alla famiglia reale dei Borboni Pompei era un sito privato per andare a visitarla i viaggiatori del Grand Tour dovevano chiedere il permesso non si pagava il biglietto fino ad un certo punto Goethe, Stendhal, Chateau hanno chiesto il permesso da quando Pompei ha smesso di essere un luogo come dire di tesori ed è diventato un sito archeologico pubblico e questo elemento del essere pubblico è per me fondamentale nella fine di questo intervento io ho solo lavorato in istituzioni pubbliche nella mia vita certo si collabora con i privati tutti i giorni però quando ha iniziato ad essere un sito pubblico non avendo un museo ha iniziato a come dire tenere in loco o portare nei propri depositi i depositi di Pompei sono più grandi di un museo archeologico come dire di molti musei archeologici pubblici tra l'altro sapete che a Pompei si continua a scavare e le scoperte vengono continuamente fatte sono potenzialmente dei depositi in movimento aperti dove il passato non è qualcosa di archeologico ma è qualcosa di presente perché ogni scoperta che viene fatta può anche contraddire la scoperta fatta al giorno prima non so se ricordate una delle più recenti scoperte non è tanto un manufatto bello ma come dire un esercizio intellettuale straordinario è stato ridatato il momento dell'eruzione di Pompei che si tendeva a considerare avvenuta in agosto nel 79 con la data di ottobre perché è stata scoperta una domus che era in restauro e faccio presente che sappiamo dai racconti storici Pompei era un grande cantiere quando è stata sepolta dai materiali piroplastici quello che è del Vesuvio perché nel 62 dopo Cristo c'era stato un grande terremoto quindi molte delle case di Pompei erano state appena restaurate alcune molte erano ancora in restauro è stata trovata una scritta in una casa che era probabilmente ancora un cantiere dove un operaio ha scritto che aveva fatto una grande mangiata con i suoi colleghi e mette la data non mette l'anno ma mette la data sapete quelle date come dire per gli antichi romani non si scrivevano come le scriviamo noi oggi c'erano le calende i consoli eccetera comunque all'archeologo di competenza ha aspettato interpretare questa cosa e poffete è venuto fuori che era indicava il nostro attuale mese di ottobre ora siccome noi non pensiamo che come dire a meno che non ci fosse un fallimento ma non è probabile si lasciasse come dire per così tanti mesi fino all'agosto successivo un cantiere aperto è probabile che ci sia stato un errore nella traduzione tra ottobre ed agosto e questo giustificherebbe anche la presenza di tanti semi di un frutto che in agosto non c'è ma c'è in autunno e quindi per farvela breve tante prove indiziarie hanno post datato di alcuni mesi la data dell'eruzione a noi di quando avvenne l'eruzione di Pompei ce ne può fregare anche nulla ma il fatto come dire che ciò che ha 2000 anni di storia non sia sicuro che quello che mia mamma dà per scontato essere molto più comprensibile dell'arte contemporanea riveli misteri che a volte l'arte contemporanea nemmeno si sogna ci permette di poter dire che Pompei è uno straordinario oggetto contemporaneo così come nella mostra dicevamo l'arte contemporanea ha tutta l'autorità per dialogare con ciò che ha 2000 anni di storia quindi abbiamo deciso di confondere i tempi di confondere gli spazi di prendere opere che stavano diventando frammenti quindi stavano quasi tornando ad essere quei fiori pestati quei molluschi essicati quella terra da cui quegli affreschi quelle sculture erano generate per fare una grande mostra sostanzialmente su ciò che rende un'opera d'arte tale nella sua dinamica con il tempo lo spazio le materie gli stili i concetti di far vedere come dire un tempo lungo lunghissimo e non soltanto quello della cronaca in cui l'opera d'arte viene inserita ed è per questo che da questi depositi noi abbiamo voluto tirare fuori anche queste cose qua uffa vabbè intanto vi faccio vedere la mostra e poi torno in ecco abbiamo deciso di tirare fuori tutto ciò che alcuni eventi catastrofici hanno determinato a Pompei quel bellissimo vaso antico che poi è stato reso fictional da tanti artisti Damian Hurst Mark Dion eccetera eccetera è in realtà un vaso antico tutte le incrostazioni cambiamenti cromatici il fatto che la corda di canapa sia stata mangiata e si sia trasformata in lapillo vulcanico che però è il colore della corda che si è mangiato e la posizione della corda che si è mangiato è una straordinaria scultura inconsapevole diciamo così creata dall'eruzione del Vesuvio che tra l'altro a Pompei ha sviluppato 300 gradi non 400 gradi come a Ercolano per cui ha permesso la formazione dei famosi calchi cioè le ossa e i muscoli si sono come dire permessi il lusso diciamo così soffocando di lasciare la loro impronta sui materiali piroclastici non piroplastici ma piroclastici e quindi abbiamo i famosi calchi di Pompei e non i calchi di Ercolano Ercolano sono letteralmente esplosi come in un film di Quente in Tarantino detto questo ciò che è accaduto a Pompei è il risultato di condizioni microclimatiche particolarissime il famoso contesto e la valorizzazione del contesto lo facciamo noi nella collezione del madre e a maggior ragione forse lo impariamo da quello che fanno gli archeologi quella cosa lì è spesso però stata già danneggiata già con tutte le sue ferite già resiliente ed eroica com'è è stata dopo la riscoperta di Pompei che ha generato anche attraverso i regali dei Borboni uno stile pompeiano una specie di prodromo di una cultura europea che si è formata appunto e riformata in tante occasioni tranquille fine settecento questo è l'ufficio fossilizzato di Jimmy Duran questi sono i materiali dell'operazione Vesuvio Pierre Stanini nel 72 immagina di trasformare l'area del Vesuvio nel più grande parco di land art al mondo chiamando gli artisti a rivelare la land art già esistente non so se ricordate Andrea dovevi dirglielo prima queste due vasche quelli sono frammenti lapide i frammenti ceramici che provengono dai magazzini di Pompei stanno intorno a tutta una serie di immagini di eruzione tra cui quella famosa di Warhol dell'85 ok andando avanti non indietro arriviamo alla sala con Goshka Makuga che è questa qua e poi c'era ecco questa questo queste sono uova conservate in un contenitore di argilla la signora andava con le sue uova questi sono semi di melograno olivo noce carbonizzati uffa non so se andare avanti o indietro questi sono molluschi da cui si ricavavano dei colori non so se ricordate l'immagine con le polveri di colore che vi ho mostrato prima e questo è il giardino finale allora della mostra con delle immagini di Maria Teresa Alves che cosa abbiamo immaginato in questa mostra e spero che come dire se non Gesù Cristo qualche dio pagano di Pompei ci permetta di farlo realizzare prima o poi i materiali che avete visto lapidei e ceramici sono materiali che erano integri dopo l'eruzione ma che sono stati distrutti e sono credo quattro volte questa sala nei magazzini di Pompei sono stati distrutti durante la seconda guerra mondiale perché Pompei è stata bombardata per errore due volte nell'agosto nel settembre del 43 quindi ciò che era sopravvissuto allo stermenato orvesevo non è sopravvissuto alla seconda guerra mondiale cosa fa Pompei di questi frammenti che sono tantissimi non li può buttare via perché sono patrimonio nazionale non li può restaurare perché sono frammenti sono quasi terra quindi li lascia come dire in quella zona grigia che sono quei depositi dove già lascia tutto il resto perché non c'è un museo e non c'è speranza per questi frammenti di essere liberati da questa loro condizione così come lascia in depositi climatizzati tutti quei resti di materia viva che vengono scoperti a Pompei perché ovviamente non è che come dire trovi soltanto gli affreschi ci sono anche i pani le uova i noccioli le scimmie che venivano usate come animali di arredamento i gatti i cani i cavalli eccetera c'è uno straordinario museo scientifico di materia organica Pompei non visitabile allora abbiamo pensato che con questa mostra Pompei ad madre materia archeologica fosse bello fare una mostra ma fosse soprattutto fondamentale lanciare direi performativamente dal punto di vista istituzionale una provocazione un invito a tutti gli altri musei a tutti gli artisti a tutti i curatori i critici gli storici dell'arte a tutti gli intellettuali quella di dire che la materia archeologica Pompeiana è fondamentalmente disponibile lo è sulla carta non l'è ancora dal vero affinché non potendo essere restaurata l'unità dell'opera d'arte originale ma non potendo nemmeno buttarla via fosse data e sono felice Giorgio di aver visitato gli studi sopra con te fosse data agli artisti contemporanei affinché essendo materia che già era diventata un'opera d'arte possa ridiventare un'opera d'arte grazie ad artisti che un po' come Mario Garzia Torres che accetta l'invito di Alighiero Boetti con 40 anni di ritardo arrivano con 2000 anni di ritardo sulle stesse materie ma che per fortuna grazie alla presenza di questi artisti smetteranno di essere un senso di colpa storico e istituzionale potranno ridiventare una materia in cui l'incontro con l'intelligenza delle forme dei colori della cultura umana potrà redimerle da questo stato di testimonianza della violenza della storia o dell'incuria delle istituzioni ovviamente senza distruggerli ulteriormente tutti i protocolli di intesa possibile immaginabili così come sta accadendo nelle scienze dure perché da quei semi i laboratori di Pompei che collaborano ovviamente con i migliori scienziati del mondo possono o forse potranno fra poco riprodurre lo stesso vino con la genetica lo stesso vino che bevevano gli antichi romani mangiare gli stessi ficchi le stesse noci adesso magari il vino che bevano gli antichi romani per noi ci farà schifo dato che è cambiato il gusto però sarà possibile farlo allora abbiamo pensato che se la scienza lo può fare anche l'arte lo può e lo deve fare e questo come dire è un po' il messaggio di questa mostra che consegno anche a voi alla vostra riflessione che fondamentalmente museo performativo è quel tipo di museo che accetta le sfide anche più immaginifiche non soltanto performatività è come dire far muovere qualcuno all'interno di un public program pagando 4 euro di biglietto e potendo fare un comunicato stampa e una campagna di marketing eccetera lo è anche ovviamente ma è soprattutto un museo che sa di essere un luogo che ha saputo trasformare un orinatoio in una fontana e in un'opera d'arte che ha saputo convincere delle persone a rischiare la vita perché quel simbolo di intelligenza collettiva di civiltà resistesse quel luogo che se si convince a portare la propria intelligenza quella dei propri artisti millenaria fuori da se stesso può diventare uno straordinario intellettuale pubblico cioè dire la sua sulle cose del mondo non solo sulle cose dell'arte e può essere anche l'unica cosa che abbiamo per adesso disponibile ad una macchina del tempo è ancora un po' citi citi ben bang questa macchina del tempo fa ancora puf puf però è anche vero che come dire tu entri in un museo e non sai quello che può accadere mentre se entri non lo so al cinema più o meno sai quello che accade al supermercato sai quello che accade cioè è un luogo pubblico e qui termino su questo concetto in cui non ti hanno già detto come va a finire o la funzione che devi svolgere o il servizio che riceverai allora questo è vero fino al momento in cui noi però affrontiamo anche l'ultimo tassello di questa performatività non possiamo chiedere ai sempre più numerosi musei privati di arte contemporanea fondazioni o formule simili di arrivare fino in fondo io credo nonostante facciano un lavoro sempre eccezionale di ricerca di riscoperta degli artisti delle pratiche ora c'è una mostra stupenda a Milano in un'istituzione che ha una natura privata che si chiama Open Care l'azienda diciamo che c'è dietro fornisce servizi per l'arte il front office istituzionale espositivo si chiama FM centro per l'arte contemporanea frigorifino milanese c'è una mostra straordinaria sull'arte italiana al femminile intorno alla biennale del 1978 una mostra che nessuna istituzione pubblico privata aveva il coraggio di fare perché è una mostra dura dove le opere non sono pitture non sono sculture sono quelle opere che quando si ha poca attenzione si possono ancora fare quell'arte fatta di quasi niente niente non fai arte ma con quasi niente lo puoi fare il corpo l'intelligenza la voce la scrittura eccetera quindi è molto secca perfetto a me viene sempre il sospetto quando vedo queste mostre che sia il momento di riscoprire l'arte femminile intorno alla biennale di Venezia del 1978 che ci sia un interesse privato in luogo pubblico non me lo posso togliere dalla testa e quindi va bene infatti ci sono i tanti collezionisti ci sono i tanti critici ci sono i tanti giornali che poi la fanno diventare una mostra modello e di successo quando è che secondo me si è perversamente alla fine della storia secondo me quando c'è un interesse pubblico in luogo pubblico cioè fare quello che veramente non interessa a nessuno se non andando in perdita di consenso di attenzione di connessioni con quello che conta o che sta per contare che non è collezionabile anche lì un'altra mostra dei frigorifini minoresi chiamava l'inarchiviabile sull'incollezionabile nell'arte italiana ho sempre il sospetto che fosse il momento di collezionarlo quell'inarchiviabile quindi diciamo sono anche amici io sono stato anche prestatore anche per questa mostra con il nostro mitico femminista arrabbiato gruppo XX di Napoli o con la nostra opera di Tommaso Binga l'alfabetiere murale e quindi diciamo non è una critica loro è proprio un discorso sistematico che io faccio c'è una performatività che può arrivare alle estreme conseguenze come un po' la foto del buco nero che abbiamo visto qualche giorno fa arrivare fin lì e oltre di fare qualche cosa che sia metodologicamente istituzionalmente dal punto di vista della ricerca unendo etica ed estetica talmente improduttivo talmente non prevedibile da cancellare del tutto quello che ho detto in questa conferenza e dire arriviamoci perché non ci spesso per autocoscienza di essere più spie che controspie non ci arriviamo ma lo possiamo fare e probabilmente lo dobbiamo fare perché l'interesse pubblico in luogo pubblico è quello che permetterebbe alla nostra performatività istituzionale di essere finalmente riconoscibile in tutte le sue potenzialità la provocazione di Pompei per creare una collezione pubblica a partire dalla materia archeologica distrutta è una forse una piccola metafora ma chi mai andrebbe se non per vendersi ed è invendibile la materia archeologica per quanto faccia schifo nessun museo archeologico che voglia fare una mossa su Pompei l'ha mai chiesta nel mondo quindi come dire per quanto sia immostrabile e quindi non interessa a nessuno esiste e farne un discorso pubblico può interessare soltanto ad un'istituzione completamente perversa secondo me nella sua performatività che è un'istituzione che ha un interesse pubblico in luogo pubblico ed è appunto soltanto una metafora diciamo così però forse è quello che vorrei consegnarvi diciamo questa sera dal punto di vista di che cosa intendevo per madre come museo performativo e come performatività dei musei grazie 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 a tutti